allora cosa asserisce nicolas notovic notovic asserisce di essere lo scopritore di alcuni manoscritti tibetani nei quali è riportata la cronistoria di Cristo, vai a dire a quanto pare i buddisti riconoscono Cristo come una delle rincarnazioni di Buddha. Ora quali sono le implicazioni di questa affermazione da parte di notovic? Le implicazioni sono alquanto evidenti, ossia che Cristo sarebbe il ponte tra il taoismo di Laozi, il buddismo di Siddhartha, nonché l'ebraismo del mondo occidentale, del Medio Oriente. Tutto ciò quindi confermerebbe ancora una volta la propagazione della religione da quel focolaio definito nel nord dell'India, diciamo tra il nord dell'India, il Tibet e la Cina, quindi in quella zona dove si è sempre pensato fosse nata la religione. In particolare però ciò sarebbe la conferma della nascita anche del monoteismo proprio in quella stessa area, dove nasce anche il politeismo. Quindi questo è un monoteismo, ossia il seme piantato dal taoismo, in realtà il seme piantato dalla Ozi, il quale presumibilmente è stato anche il maestro del Buddha, il quale ha riformato con il monoteismo l'induismo, quindi la prima religione ufficiale basata sui Veda e a quanto pare sempre lo stesso Buddha, nato nelle sembianze di Cristo, avrebbe poi diffuso il monoteismo tra i pagani d'Occidente, riformando quindi anche quello che era il culto giudaico originale, che fondantosi sull'albero della conoscenza del bene e del male, poi è divenuto il cristianesimo ufficiale, laddove Cristo stesso esplicitamente dichiara che il peccato originale, cioè quindi l'idea del demonio, l'influenza del voodoo, quindi la contaminazione africana, è terminata.